Il Monumento Storico Il Monumento Storico Il Monumento Storico La Rocchetta è il nucleo più antico della Rocca Malatestiana Quello che aveva una posizione strategica Probabilmente costruito su un fortilizio di Roma addirittura Che dominava il porto sottostante E quindi unendo adesso la Rocca di Sigismondo e del Nuti Con questo presidio più medievale che rinascimentale Abbiamo dato completezza alla lettura dell'edificio E poi alla luce sono venuti fuori nuovi spazi Passaggi, camminamenti, porte d'accesso e vie di ronda Tutti scorci in cui si respira la storia E l'epopea medievale fanese E sui quali sistema museo Potrà cucire percorsi guidati Alla scoperta di un monumento Che forse nemmeno i fanesi conoscono così approfonditamente E questa è sicuramente l'occasione giusta per appropriarsene